Io ho guardato le proposte che c'erano dalla Viennale e il tema del laboratorio che mi sentivo più vicino, che mi interessava di più, era effettivamente quello di Falkrichter. L'ho scelto perché mi interessava capire come lavora un regista come Falkrichter e anche come si lavora in Germania. Mi piace molto il lavoro di Falkrichter. Non c'erano di essere neutro, ma di essere davvero in stagione e di improvvisare da questo posto. Qui non c'è un lavoro di creazione che parte dal materiale personale e che lui integra molto bene con il coreografo Nir, il movimento scenico, la musica, i microfoni, la copresenza degli stili che per me è nuova, per cui mi interessava sperimentare. Si lavora anche sul fatto che le nostre storie sono anche scritte nel nostro modo di muoversi. Per cui uno si porta a casa poi un'immagine di un modo di lavorare che non conosceva. Questo è qualcosa che sicuramente posso portare a casa.